Un'interview con Eduardo Contreras, Rasmus Coordinator, Conservatorio Superiore di Musica di Salamanca. Edoardo, cosa pensi del tuo sistema musicale in Spagna? Posso essere sincero? Sì, penso. No, non solo in mezzo, stiamo iniziando un nuovo plan di studi, nel 2010-2011, quindi ci sarà un grande cambiamento. Penso che sarà meglio. L'anno scorso è stato molto difficile, non solo in Salamanca, ma tutto il sistema ha cambiato. Siamo implementando l'ACTS, tutto ciò che ha fatto con il processo Bologna, come la università ha fatto prima di noi. Quindi noi stiamo iniziando così. Quindi ci sarà bella, perché potremo implementare i programmi programmi e i programmi programmi, anche i programmi programmi. Non questo anno, ma nei prossimi anni, probabilmente dovremo fare questo. Quindi, non troppo, ma dovremo vedere cosa succede. Sì. Il nuovo sistema, ovviamente... Il nuovo sistema, ovviamente... Il nuovo sistema ancora funziona? Parti, perché stiamo iniziando solo con il primo ciclo. Quindi, nei prossimi anni, probabilmente, due o tre anni, dovremo avere tutti i sistemi. Ok, quindi io so che hai molto di lavoro per fare. Esatto. Ma credo che questo nuovo sistema sarà forte nel prossimo anno? Ma credo che sia forte per i studenti o no? Ma credo che sia forte per i studenti o no? No. 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 Ma credo che i studenti o no? No. Ma credo che i studenti o no? No. Ma credo che i studenti o no? ci sono stati iniziati. No. 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 Non, no. No. Il mondo è solo il mondo di gli studenti o Natana Italiano ma in particolare che riscogliate in più oltre delle fonti, nelle disc route e partecipate in finisionalmente intendo la comunità, la regione e tutto, per noi è sempre stata una buona relazione, in termes di prendere gli instrumenti, gli studenti per fare progetti, per comprare i staff e gli studenti, quindi è stata una buona relazione. Ok, buona luce per il tuo lavoro, grazie molto. Grazie. Grazie. No problem.